Noi siamo i magi, direi i magi, io sono Melchiorre, anziano ma raggià indiano, lui è Baldassarre, giovane re arabo, lui è Gasparre, mistico re armeno, e lui è Vincenzo, il quarto maggio, fulgido ragioniere milanese, segue canzone, segue canzone. Se a morire i magi, se a morire i magi, cerchiamo il bambino, a dirgli i presagi, a dirgli i presagi, sul nostro cammino, noi stiamo seguendo la stella cometa che siamo sicuri ci porti alla meta, se a morire i magi. Alle chitarre ceva da sarre, a l'ottamorre abbiamo Melchiorre, Gasparre lungo, a basso d'ottone, dicendo con il suo sasso, sia a morire i magi, sia a morire i magi, sia a quelli di prima, ma a giradagia, ma a giradagia, amiamo la rima, portiamo l'incenso, l'orella a birra, ma forse era meglio un panone e una birra, siamo i re i magi. Abbiamo fatto sei mesi di viaggio, siamo partiti il 14 maggio, noi siamo i re i magi. E siamo venuti da molto lontano, lui dall'Armenia, io da Milano, siamo i re i magi. Ora la mente la sento vicina, a cosa è servito a passare dalla Cina? Siamo i re i magi. Noi siamo ben visti dall'umanità, portiamo regali di utilità, l'incenso e la birra. E grande sviluppo ha avuto il progresso, con materiali in nostro possesso, la birra e l'incenso. Sapore di sole, sapore di mare che hai sulle labbra, che hai sulla pelle, vicino a me. Vicino a me. Cerchiamo un bambino di meno di un mese, che è sia ebreo che palestinese, avrà dei problemi. E dobbiamo arrivare all'epifania, che tutte le feste si porta via. Proverbio di cacchi. E sopra la panca la capra canta, sotto la panca la capra crepa e dentro non so. Ma sono sicuro che prima di sera riusciamo a finire questa attività. Diamoci un taglio. Grazie. 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 Grazie.